Beh ragazzi il mio è Marraff e oggi siamo qui su... non mi ricordo il nome... Kingdoms! Lo avrete già sicuramente visto da altri canali ma io volevo portarlo quindi sti cazzi... Buongiorno anche a te! Hai dei bellissimi denti... Aaaaaaah! Cioè tu mi hai appena obbligato a mettere like a spettacolo... Ok, di calcio non ci capisco un cazzo, nemmeno di musica, letteratura, figuriamoci... Ancora calcio! I mates! Ok, ok, ok... Cosa vuoi di nuovo? Ma do quanto sei figo te! Guardate che bellino che mi dice di cliccare! Non se non clicco non voglio cliccare! Notare il mio bellissimo nome? Che non so perché non me l'hanno fatto mettere però va bene così... Cosa? Ma non mi avete... No ma non volevo storia! Io non so un cazzo di storia! Chi morì nel 5 maggio? Cioè non ho nemmeno il tempo di andare su Google e cercarlo! Mannaggia te! Giulio Cesare! Ok... Noiosa! Fa schifo! Ho capito che devo giocare però... Però io voglio qualcosa che io sappia non storia che non so un cavolo! Tipo Pokémon? No, no, Pokémon non ci gioco! Non so una beata min... Oh! Clash Royale! Possiamo provarci? Non si sa mai! Eh sì, se mi fai giocare magari... Oh grazie al Dio! Vai gioca! Non voglio! Non voglio giocare con i miei amici! Io non ho amici! Ok, ok! Cosa scegliamo? Totalmente a caso questo! Rispondi correttamente a due domande per continu... Intanto si stanno picchiando! Cosa non viene cambiato con l'aggiornamento di maggio 2016? Il numero dell'Arenele... Che cazzo si ricorda? Ma che cosa? Le donazioni di carte? Oh porca puttana! Io non me lo ricordo! Non lo so! Non lo so! Il numero dell'Arenele... Oddio! Totalmente a caso! No, non ci credo! Quanti danni fa il minatore a livello 1 alle torde della corona? Giugno 2016! Questo... Ce l'ho anch'io il minatore all'1 però... Però che ca... Io non guardo ste cose! Io non lo so! No! Non mi picchiate! Eh... Secondo me è 72! Sì, era 72! Probabilmente questa parte la taglierò! Sì, sì, sì! Uno schifo! Ah, già finito? Su Clash Royale non è che siamo... Eh... Molto... Eh... Avete capito! Proviamo YouTube! YouTube! Sono curioso! YouTube! Antonio Rubino, ciao anche a te! Una domanda! Ce la possiamo fare! Quale membro del team originale di Parliamo di Videogiochi sta... Mantenendo il canale dopo lo scioglimento? Questo lo so, Fraus! No, aspetta! Sì, Fraus! Credo! Eh, infatti lo sapevo! Mamma mia che pro che sono! Un'altra, un'altra! Nello scontro su FIFA, Dreadv's Own... Chi ha vinto e ha quanto? Oddio, ma questo è vecchissimo! Cazzo, non me lo ricordo! Ehm... Due a due, la spara a caso, raga! Eh, quattro... Eh, buonanotte! Cosa fanno i me contro te? Esperimenti cover di canzoni? Questo... Questo può darsi! Oddio, che culo! Non lo sapevo! Non lo sapevo affatto! Qual è il cognome di questo? Lo so! Cinque grana! Proprio non ho nemmeno dovuto leggere la domanda! Sono troppo pro, cioè io sono avanti! E lei è triste! Non so perché! Di quale città è Charlie Moon? Foggia! Mamma mia che pro che sono! Uh, la regina! Rispondi con una maniera a cinque domande? In trenta secondi ottieni una corona! E cosa servono le corone? Non lo so! Con che cantante Greta Menchi è andata a Ibiza? Oh, porca puttana! Non me lo ricordo! Lorenzo Fragola! Cazzo è Lorenzo Fragola? Fedez, Benji e Fede... Justin Bieber! Fedez! Oddio, che culo! Non lo sapevo! Vi giuro che non la sapevo! Come si chiama il secondo canale dei The Show? The Show? Oddio! Ma c'ho il tempo! No, non vale! No! Qual è la famosa... Non lo so! Oddio! L'ho sparata! Qual è la serie famosa di Pan... 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 Non lo conosco! Ho sparato totalmente a caso! Quale youtuber... Cazzo! Non pensavo ci fosse il tempo! No, grazie! Non mi interessa! Non mi interessa! Avevo detto che non mi interessava! No, mi interessa! Stalker? Ma non solo uno stalker! Però ho vinto tre monete per essere stalker! Questa è una buona cosa! Ah, devo pure condividere! No, no, meglio di no! Comunque ragazzi, per questo episodio è tutto! Se vi è piaciuto la serie, mi piace, commentate ed iscrivetevi! Noi ci vediamo al prossimo giorno con un prossimo video! Beh ragazzi! Oddio! Oddio! Che cosa hai? Perché sei il mio brattaccio? Siamo qui!